A Conelle di Arcevia è stato rinvenuto un abitato risalente alla fine del IV, inizio del III millennio a.C. Siamo nell'età dei metalli. Questo abitato era difeso da un profondo fossato lungo un lato e all'interno di questo fossato erano stati gettati poi dei materiali non più utilizzati e che noi invece abbiamo ricostruito e che ci hanno aiutato a comprendere la storia del sito. Uno di questi oggetti è particolarmente interessante. Si tratta di una brocca con bocca obliqua ornata da una serie di fasce puntinate, incise, che la rendono molto elegante, molto particolare, anche per la forma, oltre che per la decorazione, che presenta dei confronti con dei manufatti analoghi che erano prodotti nell'Oriente egeo. Questo probabilmente implica che dovevano essere dei rapporti e dei contatti, anche in questo periodo, con quelle genti.